xoxo a tutti ragazzi Konnichiwa momento 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 non stai per vedere un gameplay della nostra leccatrice di pad preferita almeno non per oggi ma ti accompagnerò all'interno del magico mondo delle girl gamer e la specie più comune dalla quale partiamo è proprio lei la e-girl streamer è il momento di nerdare sono non solo la vostra infatti e-girl preferita ok scegliamo al punto quello dove andare timpani terribili mi piace nome aggressivo marco scrive in chat bel landing landing oddio raga io con l'inglese faccio schifo che vuol dire? ah bella città landing certo perchè io in realtà mi sembra kawaii e basta ma in realtà vi faccio vedere eh sono anche molto brava con il pompa stiamo ah ah wuhuuu sono non solo la migliore e-girl oddio che vuole questa ah josenpai arricato grazie mille per l'abbonamento mi sono incaglia mi sono incaglia raga mi sono incaglia ah raga cosa ho trovato? delle bibite hanno messo le bibite cucurabob cucurabob bomba curabob bomba wuhuuu sono troppo forte sono la migliore ah ti piacerebbe costruire così tu non sei capace guarda come sono forte come sono veloce ti ho trovata te le distruggo quelle costruzioni questi capelli mi vanno sempre davanti stai spacciata wuh che fight e adesso cosa fai eh? ah puoi solo morire wuhuuu troppo forte mi raccomando ricordatevi di iscrivervi di stabbarvi vi mando un bacione a tutti ci vediamo domani per un'altra next live mua xoxo hai finito di fare la ridicola ehi tipatica amore comunque ora voglio uscire ho staccato è stato bravissimo bravissimo e c'è gente che crede anche che lei sia una vera gamer anzi se ti levi faccio vedere veramente come si gioca eh so se ora vuole giocare la strega quindi prendi il tuo mouse e tutto bravo hai fatto dei fight fantastici grazie passo fiero conosci soltanto una cosa la vittoria lei si che sa giocare non a caso è la tryhard lo sapete che non mi dovete toccare la tastiera ma ragazzi che la vinciamo questa è la nostra mappa siamo preparatissimi la vinciamo easy forza raga dov'è il supporter quello ha detto le cam dai no ma non lo guarda perché mi sponchilla no no audio ssh audio e date le call info quelle le cam dai stanno arrivando da bagno ssh audio audio dio però non sono morta non si capisce nulla parlate quando non dovete parlare quando date le call basta poi zitti vai non si può giocare così non si può giocare via ci vuole la fremina per andare ad un altro livello raga forza eh ora si ragiona 20 chili si è messa una rondellata cioè che fai di fatto neanche le c***o sono così unti mi raccomando restate qui fino alla fine perché dovete votare qua sotto nei commenti quale è stata la vostra girl gamer preferita di oggi e la vincitrice farà un intero gameplay almeno una volta nella vita tutti hanno incontrato questa specie solo che non lo sanno la feminis australopithecus sapiens più conosciuta comunemente come la maschio è la causa della famosa leggenda le card gamer non esiste un essere camaleontico che si mimetizza tra gli altri gamer gg bro nickname immagine profilo non destano mai sospetto king la seita si sono italiano hai il microfono fin dall'antichità ha fatto voto del silenzio non sentirete mai la sua voce maledette sorelle grande bro e a fine partita penserai di avere un nuovo compagno di squadra ma fidati non hai la minima idea di chi si nasconde sotto quel cappuccio signore e signori si prega di non chiudere gli occhi mentre gioca la prossima gamer grazie nooo oh si 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 oh iniziamo subito a muoversi eh ma sempre da dietro ma ti piace proprio nooo o uffa non posso durare così poco dai Uh! guarda come spingo Oddio no 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 no! Ma perché tutti addosso a me? Ma tutti addosso! Ma mi vengono sempre tutti addosso! Lo prendo io, lo prendo io! Lo prendo io, vai! Lo sto prendendo, lo sto prendendo! Oddio! L'obiettivo, ovviamente, eh! Sì! Sì! Che ulti! Proprio come piace a me! Sì, ma non tutti insieme, eh! Uno alla volta! Sì, sì, sì! Fai così! Lei è diva, la P-diva! A parole è davvero bravissima! O meglio, forse più a suoni! Hai finito? Pfff, voi uomini! Non posso neanche essere me stessa! E poi non puoi neanche monetizzare il video, se no! Sto videogiocando! E che credete? Che pure tra le ragazze non ci sia la specie toxica! Marco, sta coperto! Marco, stai coperto! Coperto! No! L'hai capito perché non ti volevo invitare, Marco? Perché mio nonno col Parkinson avrebbe più mira di te! Io dico no! Ma entrare e plantare è difficile! Che squadra di nabbi! Andate su Minecraft! E dai, 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 smira un altro po', dai, smira un altro po', dai! La facciamo? Ce la facciamo? In due, eh? Possibile che devo essere l'unica a saper giocare? Che dici voleva fare la stessa cosa? No, siete morti perché siete scarsi! Ma vai, vai, fallito, scarso! Ma come si muovi? Ma ti è rimasto il tasso incastrato sopra la mira? Porca miseria, oh! Non solo contro, ma anche contro! Gente con la 104, a tutte le parti! Marco! Cioè, quando me lo porti a me il premio per la pace! Cioè, io sto facendo beneficenza! Lo vedi a tenersi nel team, lo vedi? Era fermo! Come te lo spiego? Ora te lo spiego io, aspetta, eh! Così magari capisci! Eric! Eric, vieni qua! Vieni qua! Allora, tu adesso scrivi mentre io lo insulto, capito? Vieni qua! Scrivi, scrivi, scrivi! Non sai giocare a un cavolo perché stio ancora nel team! Aspetta! Che le metta io lo insulto! Forse così la intende, che dici? Questo era soltanto l'inizio! Ci sono decine e decine di Girl Gamer che vi faremo conoscere in futuro! Fateci sapere però qua sotto qual è la vostra preferita di questo video! E niente, io vi saluto! Xo, xo, xo! Cos'è sta cosa? S'attacca! Una malattia! Sì! Sì! Sì!